La Sardegna si prepara a ribadire in maniera decisa il proprio no a diventare deposito nazionale di scorie nucleari, dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'elenco delle aree ritenute idonee per ospitare l'infrastruttura. Nell'isola sono otto le zone individuate, concentrate fra la provincia di Oristano e quella del Sud Sardegna, con un totale di 14 comuni coinvolti. La Sardegna si è già espressa a suo tempo con un no che non poteva lasciare spazio a dubbi, un attacco frontale che la Regione e l'intero popolo sardo non sono disposti ad accettare. Reagiremo senza indugio o tentennamenti con ogni strumento democratico a disposizione, ha dichiarato pochi giorni fa il governatore Cristian Solinas. A prendere posizione e a mobilitarsi per dare un segnale forte, anche il Consiglio regionale, che per domani alle 11 ha fissato gli Stati Generali, a cui prenderanno parte l'Anci, il Cal e i rappresentanti dei vari territori dell'isola. Ad opporsi all'ipotesi della Sardegna a deposito nazionale di rifiuti radioattivi, anche varie associazioni, tra cui il Comitato Nonucle e Noscorie, che sempre per domani, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea, ha indetto un sitin di protesta sotto il Palazzo del Consiglio regionale. La minaccia radioattiva è nuovamente sulla testa dei sardi, che in nessun caso rinunceranno alla tutela della volontà già espressa. Volontà di indisponibilità al nucleare, dichiarata con chiarezza, non solo con la mobilitazione di massa, ma anche con atti ufficiali. Referendum, leggi e ordini del giorno regionali, delibere dei comuni e delle province, determinazione della conferenza episcopale sarda, annuncia il Comitato in un comunicato stampa. Grazie.